Si è appena fatta la storia all'Icecube Center di Pechino, l'Italia del curling, specialità doppio misto, appena vinto l'oro olimpico in questa specialità con Stefania Constantini e Amos Mosaner, un'impresa che ha dell'incredibile considerato che l'Italia di certo non partiva con i favori del pronostico ma l'oro è arrivato in una maniera clamorosa, insperata ma altrettanto meritata perché in questo torneo doppio misto Costantini e Mosaner hanno dimostrato di essere senza se e senza ma la squadra da battere, tanto è vero che abbiamo fatto qualcosa che Non ho mai visto, ovvero vincere un torneo da imbattuti, il curling ci regala una soddisfazione inaspettata che un po' magari va a compensare con altre delusioni arrivate in specialità dove magari puntiamo tanto di più e invece oggi 8 febbraio 2022 ripeto si fa la storia delle olimpiadi invernali italiane perché questa è un'impresa che sicuramente rimarrà negli annali degli appassati di curling anche di chi come me ha iniziato a vederle in queste olimpiadi invernali Personalmente da esterno ho trovato uno sport non così casuale devo dire, ho trovato uno sport molto tattico avvincendo su certi punti di vista e con delle giocate di altissimo livello soprattutto per questo torneo il doppio misto che era già stato olimpico a Pyeongchang 2018 dove noi non c'eravamo e invece praticamente dal nulla o quasi siamo arrivati sul tetto del mondo di questa specialità con la 22enne Stefania Costantini da Cortina D'Ampez e col 26enne Amos Mosaner da Cembra quindi parliamo di Trentino È stata veramente una cavalcata trionfale che ci ha fatto vincere una medaglia d'oro insperata la seconda di questi giochi olimpici invernali dopo la straordinaria medaglia di Arianna Fontana nei 500 metri dello short track Un torneo che comunque vedeva di fronte tante squadre di un certo livello perché qui vediamo intanto il finale con appunto l'Italia vincitrice con la finale sulla Norvegia partita vinta per 8 a 5 e bronzo alla Svezia È stata peraltro due volte dalla nostra nazionale e quindi già questa schermata sarebbe da incorniciare per tutti gli appassionati delle olimpiadi invernali Ma appunto parlavamo del torneo, un torneo a 10 squadre che si è svolto appunto all'icecube di Pechino che un tempo era il National Squatrick Center che ha ospitato le olimpiadi del nuoto delle olimpiadi appunto di Pechino del 2008 Eppure già qualcosa di storico si era già concretizzato perché al termine del round robin del girone eliminatorio, tanto per intenderci, l'Italia ha concluso con 9 vinte e 0 perse Con delle squadre di un certo livello contro perché per esempio appunto gli stessi norvegesi con Kristin Skarsian e Magnus Nerdgotten erano di fatto il bronzo olimpico uscente C'erano gli scozzesi che qui giocano con la Gran Bretagna che di fatto sono coloro che l'hanno inventato il gioco del curling C'era la Svezia, una delle squadre più forti che potevamo affrontare e l'abbiamo battuta due volte perché l'abbiamo battuta sia nel girone eliminatorio per 11-8 Sia una partita incredibile, quella della semifinale di cui ovviamente parleremo nel proseguo del nuovo episodio del Nordic Podcast per quanto extra C'erano i canadesi che comunque sono una squadra che in questo gioco sono delle potenze incredibili della disciplina C'erano gli svizzeri che erano i vice campioni uscenti in carica, insomma c'era tantissima carne al fuoco per avere un torneo molto competitivo Ma che non contemplava evidentemente l'Italia che comunque si sta approcciando ultimamente a questo sport con risultati di un certo livello Perché l'Italia è vero, non partiva con i favori del pronostico ma non partiva neanche come una squadra ultima arrivata Vedi per esempio squadre inferiori di questo torneo come i padroni di casa della Cina o la stessa staglia L'Italia per esempio degli ultimi mondiali è arrivata nelle prime cinque posizioni Sia nel doppio misto sia evidentemente anche nel mondiale maschile Peraltro il torneo maschile finirà domani dopo questa straordinaria impresa del doppio misto Però gli italiani per quello che ho visto hanno comunque giocato sempre al massimo delle potenzialità E vedremo poi anche le statistiche dei nostri due alfieri della nostra nazionale che hanno fatto delle giocate incredibili Le migliori giocate sono viste già però alla partita numero due, quella contro la Svizzera Che appunto erano i vice campioni olimpici in carica Lo vediamo qui, una partita vinta per 8 a 7 all'ultima ripresa supplementare Qui uso un termine mutato dalla mia disciplina ovvero il baseball che di fatto regala la vittoria per 8 a 7 In una partita che comunque ha visto una partita che poteva essere persa in questo caso la nostra nazionale Che però è riuscita ad approfittare degli errori della coppia svizzera E abbiamo già visto in questa partita come alcuni tiri importanti avessero comunque cambiato evidentemente l'inerzia a favore della nazionale italiana Vedi per esempio il 3 a 0 della seconda ripresa o come giusto dire nel termine tecnico il secondo end Altri tiri fondamentali si sono visti anche in partite molto più complicate E qui citiamo già la prima partita contro la Norvegia che questa è stata un'altra grandiosa vittoria Perché è arrivata per 11 a 8 dopo aver subito un partitale di 5 a 0 Che in questa specialità è il massimo che una squadra può subire Considerato che appunto ogni squadra può tirare 5 stone E evidentemente il massimo di punti possibili in una ripresa vincente è 5 Gli italiani sono stati bravissimi comunque anche a rimontare e a battere la Norvegia Che ripeto era il bronzo olimpico in carica Poi ci sono state partite interlocutorie ma la partita più importante è stata sicuramente la prima contro la Svezia Che secondo me ha dato tanta consapevolezza evidentemente alla nostra nazionale di fare una prestazione di un certo livello Questa partita che andiamo a citare è quella di fatto del 6 di febbraio dove l'Italia ha vinto 12 a 8 Ma di fatto con due riprese sensazionali Parliamo del sesto e dell'ottavo end con un massimale di 5 a 0 E il 4 a 0 decisivo che ha di fatto spostato definitivamente gli equilibri L'Italia per tutto il torneo ha dimostrato una freddezza in campo veramente incredibile E ha giocato veramente come meglio non poteva Le percentuali per tutto il torneo di Constantini e soprattutto Mosaner sono state qualcosa di fuori dalla grazia di Dio Perché Mosaner vedremo spesso raggiungere percentuali del 90% Constantini invece è riuscita a fare i tiri piazza decisivi sempre quando contava E lo abbiamo visto soprattutto nella primo round contro la Svezia Svezia che comunque è stata anche la nostra avversaria nella semifinale Semifinale che anche qui io ho avuto l'onore di vederla in diretta E ha fatto vedere ancora come noi eravamo la squadra del destino Una squadra vagamente ispirata Mettiamola così con una partita giocata sempre di fatto col servizio contro Perché dopo aver vinto il primo end per 1 a 0 La mano diciamo l'ultimo sasso era sempre a disposizione degli svedesi E invece abbiamo visto un'Italia concentrata Un'Italia che è sempre riuscita a sfruttare gli errori avversari E a mettere dei break E qui mutuo un termine dal tennis Per un ponteggio di 8-1 peraltro Prima del termine naturale delle 8 end E qui entriamo in un'altra caratteristica che vi accennavo prima Ovvero le statistiche dell'efficacia al tiro Stefania Costantini 22enne di Cortina D'Ampezzo Ha fatto una grandiosa semifinale all'84% di efficacia Per quanto riguarda i tiri contro la Svezia Ma ancora più impressionante è stato Amos Mosaner Con uno straordinario 94% Dalle semifinali in poi Mosaner ingranerà quella marcia in più Che servirà all'Italia per compiere questa impresa sensazionale Anche perché poi dopo anche nella finale Mosaner Fino all'ultimo end terrà percentuali fino al 98% Addirittura con soltanto un errore Poi ovviamente nell'ultimo end le percentuali caleranno Ma è qualcosa di storico perché comunque ci attestiamo A un 90% per Amos Mosaner Un 83% per Stefania Costantini Per una media dell'87% Qualcosa di irreale Percentuali che ha raggiunto soltanto di fatto la Svezia Nella finale per il bronzo contro la Scozia Vinta peraltro per 9-3 dalla coppia Deval Eriksson La finale invece per loro vede una clamorosa vittoria Per Mosaner e Costantini Che compiono qualcosa di incredibile Ovvero una vittoria da imbattuti a un torneo Va detto che per la finale del curling si affrontavano le due squadre migliori Senza se e senza ma perché dopo la sconfitta con l'Italia La Norvegia ha infilato 6 vittorie consecutive Ma noi arriviamo da 10 vittorie consecutive Di conseguenza era ovvio che chi fosse il nostro avversario Trovava in noi un accoppiamento parecchio duro E alla fine neanche per i furtissimi Scarsene e Nethergotten c'è stato molto da fare È argento per la Norvegia Ma è medaglia d'oro per l'Italia Nel curling del doppio misto E dunque che si invochi ufficialmente il trionfo E io pretendo che a Cortina e a Cembra Dove sono originari Constantini e Mosaner Ci siano i caroselli per le strade Perché questa è un'impresa veramente seconda Soltanto alla vettoria dei 100 metri piani di Marcel Jacobs O alla staffetta del fondo di Lillehammer nel 1994 Insomma è un'impresa che lo sport italiano dovrà ricordare tantissimo E ha imperitura memoria E attenzione perché se questi sono così A 22-26 anni nel 2022 Attenzione perché tra 4 anni si gioca in casa A Milano-Cortina 2026 Proprio e a Cortina ci sarà il Palazzo del Curling Apposta dedicato per festeggiare i campioni olimpici Che chissà a questo punto potranno tentare una grande grande impresa Ricapitoliamo Italia medaglia d'oro per quanto riguarda il curling doppio misto Con Stefania Costantini e Amos Mosaner Per cui suona il canto degli italiani Ancora una volta per il secondo giorno consecutivo Dopo Arianna Fontana Seconda posizione per la Norvegia Che comunque mette un'altra medaglia per il proprio carniere E la Norvegia attenzione perché comunque potrà Scrivere pagine e pagine importanti In queste olimpiadi invernali E terza la Svezia È buttata due volte dall'Italia Ma che ha avuto meglio Diciamo della Scozia Nella finale per il bronzo Fuori a sorpresa il Canada Che è arrivata in quinta posizione Decisiva per i canadesi È stata la sconfitta proprio contro di noi All'ultima giornata Ed era l'uno dei favoriti della vigilia Sesta la Repubblica Ceca Settima la Svizzera Che non difendono alla grande Il titolo di argento olimpico Effettuato a Pianciang 2018 Ottavi gli States Nonna la Cina E chiude l'Australia In decima posizione Ma questi due ragazzi E qui torniamo sull'articolo di Nevitaglia.it Hanno fatto qualcosa di straordinario Ricordiamo Stefania Costantini E Amos Mosaner Hanno appena vinto l'oro Nella curling Specialità doppio misto E di conseguenza Era legittimo e doveroso cerebrale Con un nuovo episodio Del Nordic Podcast Fatemi sapere cosa ne pensate Di questa grande impresa Che per me deve rimanere Negli annali E spero sinceramente Ci facciano un film Perché Per uno sport Che è praticato da pochissime persone Da 350 Tesserati ufficiali Più immagino qualche amatore Parlavano in telecronaca Dario Puppa E Alessandro Ziza Che ringrazio Per il grande commento Che hanno fatto 500 tesserati Insomma Arrivare al top All'Olimpiadi È veramente qualcosa Di oltre L'immaginazione È un po' Come se nella mia disciplina Che è lo sloped softball Arrivassimo Come nazionale italiana Ad avere una medaglia d'oro In un mondiale O in una manifestazione Di grande livello È un'impresa paragonabile Appunto Alle grandi storie Dello sport italiano Che abbiamo già citato Jacob Stamberry La staffetta Del Fondo Del 1994 Ad altre imprese sportive Che abbiamo visto Veri per esempio Steven Bradbury O anche un'altra impresa Qui del salto Di questo Olimpiadi Di cui però parleremo domani In ogni caso È veramente Un'Olimpiade Incredibile L'Italia Ha già preso Sei medaglie Nel momento in cui sto registrando Devo ancora vedere Lo sci di fondo Con la sprint Con Federico Pellegrini In ogni caso Avrete aggiornamenti Anche nei prossimi episodi Ci vediamo domani Per il primo recap Della settimana Per quanto riguarda Il salto con le sci E la combinata nordica Che salteranno Appunto O hanno saltato Nel caso di salto con le sci Dal trampolino piccolo Di Gian Giacu E saluto da parte Di Matteo Torgard Ci vediamo domani Con il prossimo Notic Podcast